Buonasera, mezzanotte 57, cominciamo subito con gli aggiornamenti sul coronavirus. Nel nostro paese aumentano i casi di contagio, aumentano anche le vittime, ma per fortuna aumentano le persone che sono guarite, ma si allarga la zona del contagio. Sotto stretta osservazione adesso è Bergamo e la sua provincia potrebbe essere inclusa in una nuova zona rossa. Lì è stato trovato positivo anche il questore e la prefetta. C'è una notizia che però viene dall'Istituto Superiore di Sanità che ci conforta. Il tasso di letalità nella prima fase della malattia in Italia è inferiore rispetto a quello che c'è stato in Cina nello stesso periodo. Ma adesso vediamo il servizio con tutti gli aggiornamenti. Il totale dei contagiati ha superato i 4.600 casi, quasi 800 in più. Quello delle vittime ha quasi raggiunto quota 200, circa 50 più di ieri. I casi già confermati sfiorano i 4.000. L'unico dato positivo relativo alle persone guarite ammonta a 523, con oltre 100 persone considerate fuori pericolo nelle ultime 24 ore. Il coronavirus continua a crescere con una progressione ancora troppo veloce. Preoccupa molto l'evoluzione in Lombardia, in particolare nel Bergamasco, dove si registrano due terzi dei nuovi casi e dove anche il prefetto e il questore sono risultati positivi al test. Un'area dove dovrebbe essere estesa la cosiddetta zona rossa, con provvedimenti analoghi a quelli già adottati nel basso lodigiano. Positivo anche un agente della scorta del leader leghista Salvini, che però non risulta essere entrato in contatto diretto con l'ex vicepremier. Al nord, dopo la Lombardia, il fronte più difficile resta quello dell'Emilia-Romagna. Solo qui il numero dei contagiati è salito a 870, piena emergenza soprattutto nella provincia di Piacenza, al confine regionale. I ricoverati in ospedale sono 452 in terapia intensiva. Segue il Veneto, dove i casi aumentano, ma con una progressione più lenta. Mentre in Piemonte, dove si teme un focolaio autoctono, è pesante la situazione dell'ospedale Molinette, perché il contagio, nato da una coppia di anziani coniugi ricoverati inizialmente per quella che si riteneva una forma influenzale, ha comportato l'adozione dell'isolamento per medici e infermieri del reparto di medicina generale e di decine, tra altri pazienti e visitatori. La coppia, all'insaputa di tutti, era stata raggiunta dal figlio proveniente da Codogno. Qualcosa di simile è avvenuto all'ospedale San Giovanni di Roma, dove la morte di una paziente cardiopatica, risultata poi positiva al test, ha comportato l'adozione di provvedimenti di cautela per il personale sanitario con cui la donna era entrata in contatto. Nel Lazio la crescita dei casi resta più contenuta, con otto pazienti in condizioni più gravi, quasi tutti curati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Spallanzani. Un primo caso di coronavirus è stato segnalato anche nella città del Vaticano. Si tratta di un anziano dipendente della Santa Sede che si era rivolto alla struttura sanitaria all'interno delle mura ed è risultato positivo al test. È appena terminato il Consiglio dei Ministri che ha varato un decreto nel quale sono contenute varie misure. Da poco è arrivata questa agenzia. Ve la leggo. La protezione civile che ha il potere di gestire questa emergenza avrà fino al 31 di luglio il potere di disporre la requisizione da ogni soggetto pubblico o privato di presidi sanitari e medico-chirurgici nonché di beni mobili e di qualsiasi genere per assicurare le forniture e implementare il numero dei posti letto specializzati. È possibile anche una requisizione temporanea di beni mobili, quindi immobili, quindi non solamente gli alberghi ma anche le case, per ospitare le persone in quarantena. Questo ovviamente coinvolgerà anche la sanità privata ma adesso nel servizio che sta per andare in onda ci sono gli altri punti trattati in questo decreto. Vediamo. Poco fa, dopo circa tre ore, il Consiglio dei Ministri con un decreto legge ha dato il via libera ai capi degli uffici giudiziari di sospendere fino al 31 maggio le attività e quindi le udienze per i reati non gravi. La sospensione, si legge nel testo, avviene in caso di emergenze epidemiologiche certificate. Inoltre si applica per le udienze relative alle dichiarazioni di adottabilità ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e ad alcune tipologie di udienze di convalida dell'arresto o del fermo. Inoltre il Governo ha autorizzato il Sistema Sanitario Nazionale ad acquistare macchinari e presidi per potenziare la risposta degli ospedali, in particolare nelle parti di terapia intensiva e subintensiva. Si fanno sentire anche le opposizioni. Secondo vertice del centrodestra nel giro di 24 ore. Di fronte all'emergenza, coronavirus, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno un identico messaggio da spedire al Governo, anche sull'onda di quanto detto dal Capo dello Stato. Siamo pronti a fare la nostra parte, spiegano Salvini, Meloni e Tajani, ma chiediamo garanzia sul nostro coinvolgimento nella ricerca e nella stesura delle misure per fronteggiare l'emergenza. Quello che è successo fino ad ora non va bene. Sette miliardi, osserva Meloni, è meno di quanto spendiamo per il reddito di cittadinanza. La proposta delle opposizioni prevede misure per 30 miliardi utili per aiutare famiglie e imprese colpite e i tre leader chiedono formalmente al Premier un incontro ufficiale e l'apertura di un tavolo tecnico per esaminare i loro suggerimenti. L'obiettivo, spiega il leader della Lega, è scrivere insieme il decreto che arriverà in aula mercoledì prossimo. A questa condizione, aggiunge Salvini, siamo disponibili a votarlo. Dunque, nell'alleanza è prevalsa la formula istituzionale di opposizione responsabile, promossa sia da Forza Italia sia da Fratelli d'Italia, una linea soft condivisa ora anche da Salvini, che però resta molto critico con Bruxelles, e infatti attacca. L'Unione Europea dice che se c'è, batta un colpo. L'Italia sta subendo una squallida guerra commerciale. E anche i ministri finanziari e i governatori delle banche centrali del G20 si sono detti pronti a sostenere, anche con ulteriori misure, incluse quelle di bilancio e di politica monetaria, il sistema finanziario e l'economia in questo momento di complicata crisi. E poi andiamo a vedere che cosa sta succedendo negli altri paesi, a cominciare da quello più vicino a noi, e l'Austria, dove stasera il cancelliere Kurz ha fatto sapere che saranno introdotti, e ci sarà anche la polizia, i controlli al confine con l'Italia. Verranno presi a campione dei controlli sanitari. Verrà quindi misurata la temperatura e verrà chiesto alle persone il luogo di provenienza. Sappiamo che ad oggi sono 91 i paesi che sono stati colpiti in tutto il mondo. In Europa, Francia e Germania si fanno i conti con la malattia che cresce in maniera esponenziale, l'Unione Europea ha avvertito. Gli stati guardino a quello che ha fatto l'Italia e si preparano a fronteggiare l'emergenza negli Stati Uniti, da dove vediamo queste immagini. Poco fa si è saputo che ci sono 19 persone contagiate a bordo di una nave da crociera a largo di San Francisco, ma Donald Trump rassicura che ce la faremo. Non sarà qui così grave. L'importante è attenersi ad alcune misure come evitare di stringersi la mano e non viaggiare all'estero. Insomma, Trump ostenta tranquillità. Adesso ci occupiamo invece di quello che sta succedendo al confine tra la Grecia e la Turchia, che è anche un confine meridionale dell'Europa. Il patto tra l'Unione Europea e la Turchia, siglato nel 2016, che limita le migrazioni verso l'Europa, ha detto il premier Mitsotakis, è morto. Parole dure da parte del premier che ha accusato Ankara di assistere un'ondata continua di migliaia di migranti alla frontiera che hanno sistematicamente spinto sia in terra che in mare queste persone nel loro tentativo di entrare in Grecia, ha detto Mitsotakis, che ha riconosciuto che la Turchia ospita quasi 4 milioni di rifugiati dalla Siria, ma ha poi insistito sul fatto che l'Europa non può essere ricattata dalla Turchia per questo problema. Non siamo noi quelli che stanno aggravando questo conflitto, ha detto il premier Greco. Abbiamo tutto il diritto di proteggere i nostri confini sovrani. E adesso veniamo alle conseguenze dell'epidemia di coronavirus sullo sport. Ieri vi abbiamo spiegato cosa succederà con il calendario di calcio. Adesso ci sono anche altri sport, come il ciclismo e lo sci, che devono fare i conti con quello che sta succedendo. Lo vediamo. Complice il coronavirus, il calcio fatica a trovare pace. E' di questa sera l'ipotesi, subito respinta dalla Lega di Serie A, di un ritorno alle antiche abitudini, con le partite trasmesse in tv in chiaro. Proposta arrivata dal ministro delle politiche giovanili Spadafora, deciso a rendere più sopportabile per i tifosi la prospettiva di un campionato a porte chiuse. Dopo il sì della federazione è prontamente arrivato un netto no da parte della Lega, che ha anteposto a tutte le esigenze lo scoglio dei ricchissimi contratti in vigore con le dv a pagamento. Poche ore prima la Lega aveva fissato i recuperi della 27esima giornata, iniziando da venerdì 13, quando si giocheranno Verona-Napoli e Bologna-Juventus. Sabato 14 Spalcaglia, Rigeno-Aparma e Torino-Udinese. Per domenica il programma prevede Lecce-Milan, Atalanta-Lazio, Fiorentina-Brescia-Inter-Sassuolo e Roma-Sampdoria. Primo rinvio in Francia, quello di Strasburgo-Paris-Saint-Germain, deciso dal prefetto della città dell'Alto Reno, dove si è sviluppato un focolaio di coronavirus. Nel frattempo continuano a fioccare rinvie ed annullamenti di competizioni sportive. Slittano, a data da concordare con la Unione Ciclistica Internazionale, tre gare di altissimo livello, come la Tirreno-Adriatico, 11-17 marzo, la Milano-Sanremo, 21 marzo, il Giro di Sicilia, primo 4 ottobre. A complicare ulteriormente la situazione, le disposizioni dei vari governi, che impediscono ai loro atleti di raggiungere zone a maggior rischio. In questo caso ne ha fatto le spese Cortina d'Ampezzo nel Bellunese. La perla delle Dolomiti, infatti, non ospiterà a fine mese l'atto finale della Coppa del Mondo di Scialpino, che vede in lotta per la vittoria l'azzurra Federica Brignone. Definitiva anche la cancellazione della gara romana della Formula E, che era fissata per il 4 aprile. Queste erano tutte le notizie che vi dovevamo. È l'1 e 8 minuti, tutto ricomincia domani mattina alle 7. Arrivederci e buonanotte.